Un atto di indirizzo regionale chiaro per rendere il dovuto riconoscimento ai lavoratori colpiti dalle patologie da amianto. Lo hanno chiesto l'amministrazione comunale di Gela e l'Osservatorio Nazionale sull'Amianto ieri a Palazzo dei Normanni nel corso di un'audizione congiunta delle commissioni ambiente e servizi sanitari. All'incontro sulle problematiche delle vittime dell'Amianto e dei loro familiari per il comune di Gela hanno preso parte il sindaco Domenico Messinese e l'assessore al territorio ambiente con delega alle bonifiche Simone Siciliano. Non possiamo continuare a definirci città sfortunata, ha detto il vice sindaco siciliano. Nell'accezione siciliana certi aggettivi vengono usati soltanto come alibi da chi non sa risolvere i problemi. E a Gela, nonostante più di 50 km quadrati tra terra e mare siano siti di interesse nazionale, da 25 anni non si esegue nessuna bonifica rilevante sul territorio continua siciliano ed oltre al danno la beffa di vedere il mancato riconoscimento del contributo a Mianto per gli anni successivi al 92 come se per legge si potesse di incanto farlo sparire nel nulla. Eppure nel 2011 l'autorità giudiziaria aveva riscontrato ancora la presenza di quantitativi rilevanti di a Mianto. Per onore alla concretezza ha chiesto l'assessore incalzando le commissioni dell'ARS pretendiamo indicazioni chiare da questa sede. Non c'è un atto di indirizzo dei ministeri dell'ambiente e del lavoro e allo stesso tempo la regione siciliana non ha autorizzato atti equipollenti a quelli ministeriali pur essendo a statuto speciale. Una presa di posizione chiara è stata invocata anche per l'istituzione del registro dei lavoratori esposti per i piani di censimento a Mianto e relativi piani di azione per gli interventi di bonifica la cui mancata approvazione non consente di afferire fondi comunitari per eseguire gli interventi che il territorio attende da decenni. Il presidente della commissione Ambiente e Territorio all'ARS, Giampiero Trizzino, ha concluso l'audizione annunciando una risoluzione per il completamento urgente dell'ufficio regionale a Mianto a corto di personale. A breve sarà chiesto un tavolo congiunto tra l'assessorato regionale e il ministero della salute con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali sentiti ieri.